Se avete gatti a casa sapete che questa è la stagione in cui i gatti perdono un sacco di pelo, diciamo più del solito. Io a casa in ogni stanza ho uno di quei rulli appiccicosi che una persona si passa addosso e cerca di catturare quanti più peli di gatto possibile. È però in questo periodo dell'anno quasi diciamo una battaglia persa perché i peli che perdono sono veramente tanti. Quindi io ho una spazzola particolare pagata un sacco di soldi, cioè un sacco di soldi, pagata molto più di quanto una persona si aspetterebbe di pagare una spazzola per pettinare i gatti. Però è una spazzola che riesce a catturare i peli del gatto che sono non in superficie ma sotto. Sono non proprio peli ma sono una specie di lanetta. Ai miei due gatti Sputnik e Mazinga piace tantissimo quando io le spazzolo. Si stendono nel balcone, pancia all'aria, si girano a destra e a sinistra così che non salto nemmeno un centimetrino del loro folto pelo. In questo periodo che si avvicina l'estate, la stagione calda, lo faccio praticamente tutti i giorni. Questa spazzola è particolare appunto perché riesce a raccogliere, non lo so se si chiama sottopelo, comunque però non quei peli lunghi ma quelli più 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 corti. E una volta che io ho spazzolato anche solo per qualche minuto il gatto, mi rimane in mano questa pallottola di lanuggine. Non sembrano nemmeno peli, sembrano proprio una lanuggine. E così, siccome non ha altro da fare nella vita, ho cominciato a arrotolarla nelle mani, e a farmela girare tra i palmi delle mani per fare delle palline. Diciamo che è un po' il principio, lo stesso principio che si segue quando si fanno le palline di lana grezza, di lana cotta. L'olio che c'è naturalmente sulla nostra pelle si mischia alla lanolina che c'è nel pelo degli animali e vengono fuori queste sfere abbastanza precise, di un colore sempre grigiastro. Mazinga è bianca, ha macchie nere, Sputnik invece grigia, tigrata, però le palline hanno sempre lo stesso color, hanno questo colore grigio, un bel grigio morbido. Allora, ho cominciato a fare queste palline, e siccome poi una volta che le faccio non so dove mettermele, mi dispiace buttarle perché sono veramente perfette, allora ho cominciato a poggiarle in un vaso che abbiamo sul balcone. E ne avevo cinque, sei, e poi improvvisamente ieri non ce n'era più neanche uno. Ho chiesto al mio marito, ma chi avete tolto le palline del gatto? Ma neanche le ho viste, manco ho visto ci fossero. E poi ho svelato l'arcano perché stamattina quando mi sono alzata ho visto che le palline le aveva tolte dal vaso Sputnik e ci stava giocando e le aveva sparse per tutta la casa.